Musica Ciao Yuri Keki, campione olimpico, degli anelli Come si nutriva un ginnasta prima, dieci anni fa, quindi cosa prendeva e come invece si nutre oggi, quindi cosa è cambiata nella tua alimentazione, nel tuo regime alimentare di quali nutrienti avevi più bisogno prima e di quali hai più bisogno oggi Lavoro a mercato, mi alzo la mattina presto e mi piace da mangiare soppresa, ossi di porco e salamele Da prima eri molto più, come dire, una massa muscolare più sviluppata, oggi sei molto più asciutto e definito, mangi più proteine rispetto a prima? No no, io mangio solo ossi di porco e lardo e qualche bicicletta di vinbon Come integri le proteine? Lavoro, sto ben così e non ho bisogno di un fico secco Bene, grazie a Yuri Keki Saluto a tutti, grazie da Yuri Keki